Preparati te stesso per l'Apocalypse Ok, ci siamo, siamo su Rainbow Six Siege L'ho portato E anche l'ho scaricato Quindi, direi di farci una partita, cos'è sta cosa? Blocca la fama Ok, vabbè, giochiamo, facciamo una partita in multiplayer Libera E vediamo come andrà a finire questa partita Bella questa mappa Bella, bella Oh, due Oh, due Era lì Che ciocchinata Li avevo visti tutti Tutti li avevo visti Nuovo caricatore La mia Oh, due No, due Corso No, due Siamo a 15 secondi, squadra d'attacco eliminata, missione completata. Buono, ma ancora, ho sempre lui, ottimo lavoro, contenitore di servizio localizzato. Mannaggia, da dove? Non ci posso credere, va bene, l'ho persa scatola, e no, nessuno mi individua. Dove cazzo fa? E' morto così a caso. Ma, io l'avevo visto, madonna, si vabbè, non posso credere sempre le persone e non farci niente. Che scatole. Vabbè. Ho in primo round fatto due kill, adesso non ne faccio più. Sì, sono scarsissimi. Ce lo so proprio. Non mi vengono prestiti di sparare, lo vedo sempre all'ultimo. Lo fanno prima a sparare. A me. Vittoria alla difesa, nemici eliminati. Non vinto. Bene, bene. Oh! Bene. Oh! intermedi non i decorations. Come Olaf? Oh! Oh! Ag laquelle, va bene. Oddio Non ci posso credere Vabbè Siamo supplementaari da Bum E porta a casa la vittoria E ci siamo Porta a casa la vittoria Stupendo Bella questa Fatto 4 kill in questa partita Niente male Niente male Ultimo nemico rimasto Niente male Meno male che c'era lui Ricarica Ricarica Managgia Vabbè Si Adesso lo stavo guidando Va bene Sapevo che ero lì e ho sparato anche Vabbè Vabbè Non mi devo esporre troppo No donna Questa cosa possiamo anche vincere Nice Vittoria perfetta 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 3 kill mi sono fatto Dai va bene Ci sta Comunque spero che questo episodio di Rainbow Six Siege vi sia piaciuto Ci vediamo in un altro prossimo video Bella Bella E' bella tornare su Rainbow ogni tanto Ciao